Doctor Who The Power of the Doctor è il terzo special televisivo del 2022 dedicato al Doctor Who, appunto. Terzo special televisivo molto importante per tanti tanti motivi. E questa è la puntata che segna la trecentesima storia televisiva principale, diciamo, del Doctor Who televisivo da che è partito a revival. E al tempo stesso è una puntata questa che permette di fare una sorta di elogio alla BBC per il suo centesimo anniversario con questa puntata, con il Doctor Who, uno dei suoi serial sicuramente più longevi e più famosi. E questa è una puntata importante, non soltanto a livello del mediatico, ma anche nell'economia della storia del dottore. Infatti questa è l'ultima puntata che vedrà il tredicesimo dottore, Jodie Whittaker, come il dottore principale della saga. Diciamo quindi un addio, che forse in realtà nell'economia generale del dottore è sempre di più un arrivederci, soprattutto dopo aver visto questa puntata, a Jodie Whittaker. La dottoressa, la dottora, il dottore donna, chiamiamolo un pochettino come vogliamo, che per quanto mi riguarda, malgrado abbia apprezzato in determinati frangenti, comunque non è mai riuscito a fare veramente breccia nel mio cuore. Non dico ai livelli del mio caro Peter Capaldi, il dodicesimo, però neanche in realtà come altre incarnazioni del dottore che mi sono rimaste più impresse. E che magari avrò avuto modo di rivedere in questa puntata. In realtà tutta la gestione di Chris Chibnall, in realtà showrunner di questa tornata del dottore, con il tredicesimo dottore appunto, non mi aveva realmente convinto. Ed è sempre con questa puntata, le power of the doctor, che diciamo addio a Chibnall come showrunner. Per una prospettiva assolutura che andrà in realtà a rivedere il passato con Russell T. Davis. Anche per questo. Qual è la storia di base? La storia di base è quella del dottore che, dopo aver in qualche modo cercato di intralciare dei piani dei Cybermen, dei Cyberuomini appunto, che hanno rapito un bambino, una bambina, che in realtà apparentemente poi si rivedrà essere molto di più nel corso della puntata, abbiamo un dottore in difficoltà. In difficoltà perché è costretto, il dottore, a dire addio a uno dei suoi companion, uno dei suoi compari, a Dan, nella fattispecie, John Bishop, che ha deciso, dopo l'ennesima volta in cui ha rischiato la pelle, di interrompere il suo viaggio col dottore. Rimangono quindi il dottore Yaz. Questa coppia non coppia, in realtà, soprattutto a fronte di quanto ho visto poco prima rispetto a questa puntata, che deve fronteggiare quindi non soltanto questa minaccia dei Cybermen, ma al tempo stesso abbiamo motivo di credere che la minaccia dei Dalek si stia rifacendo viva e che, al tempo stesso, il maestro, nuovamente nell'incarnazione di Shasha Dawan, stia di nuovo macchinando, forse per un piano che porterà alla distruzione definitiva del dottore. Una distruzione, per certi versi, perpetua. E questa è la puntata, in realtà, che ci mostra un piano molto macchinoso del maestro, che coinvolge, appunto, diverse schiere di acerimi nemici, principalmente, appunto, i Dalek e i Cybermen, oltre che, ovviamente, il maestro. È tutta una macchinazione, una macchinazione molto complessa, in realtà, che, però, tutto sommato, alla fine, permette di tirare il filo velocemente. In questa puntata, in una puntata molto lunga, forse la più lunga o comunque una delle più lunghe in assoluto del Dr. Who, a parte, se non mi ricordo male, il film televisivo, che ho avuto modo di recuperare nel corso degli anni, questa puntata ci racconta la storia del dottore, che deve fronteggiare, quindi, questa minaccia. Questa minaccia è la macchinazione del maestro, che riuscirà, in qualche modo, ad imporre una rigenerazione forzata. La rigenerazione, il grande fenomeno che permette al dottore di cambiare identità, in realtà, e di creare una nuova vita, la sua nuova vita, infatti, e che, inevitabilmente, è sempre un momento di passaggio molto di impatto, per il pubblico, per i personaggi, per il dottore, in qualche modo, e soprattutto, ovviamente, per gli interpreti del dottore. Abbiamo quindi una rigenerazione forzata, una rigenerazione forzata che porterà il maestro a divenire il dottore, ma, ovviamente, in qualche modo, con i soliti escamotage, evidentemente, fortuiti, per certi versi, del dottore, alla fine, soprattutto grazie ai Companion, che, fra l'altro, avremo modo di vedere in abbondanza, in questa puntata, che permette di ritrovare anche degli antichi Companion del dottore, sto parlando dei personaggi di Tegan e di Ace, personaggi che io, personalmente, non ho avuto modo di conoscere, perché facenti parte della serie classica, in realtà, addirittura alcuni non hanno avuto una chiusura nella serie classica, data la cancellazione all'epoca, e, quindi, sono i Companion, in qualche modo, che, alla fine, riusciranno a salvare il dottore. Sarà l'occasione questa per rivedere vecchie facce, tantissime vecchie facce. Vecchie facce, o meglio, la stessa faccia, fatta da tanti, tanti attori diversi. Questo perché? Perché, ad un certo punto, lo spettro della rigenerazione, sebbene forzata, comunque incomberà, e comunque, gira che ti rigira alla fine, avverrà. Dopo aver sconfitto, definitivamente, fino alla prossima volta, inevitabilmente, il Maestro, infatti, in qualche modo, comunque, la rigenerazione sarà un qualcosa che non potrà essere più rimandato. E quindi, sarà il momento dell'addio. Un addio con Yaz, questo personaggio interpretato da Nathmandip Gill, che, in realtà, con Jodie Whittaker, creava un ottimo duo, a mio avviso. Un ottimo duo che, però, nell'economia della serie, della storia, e per quanto riguarda relazioni amorose per il dottore, evidentemente, non è stato abbastanza forte, come magari all'epoca poteva essere stata un River Song, col dodicesimo dottore, magari, o perché no, col undicesimo, e che, in definitiva, è necessario interrompere questo rapporto. È necessario interrompere il rapporto con Yaz, perché, comunque, è sempre doloroso dire addio ai compagni, anche se il dottore, in qualche modo, per motivi della realtà, inevitabilmente, si discorda, ma comunque non abbiamo in realtà un vero e proprio addio, quello tra il tredicesimo dottore e Yaz. Abbiamo un addio senza D. Magari, poco prima della sua fine, il dottore trascorrerà qualche ultimo momento con questa Yaz che tanto ha amato il dottore, che in realtà, in qualche modo, forse, malgrado quello che ha detto, non è riuscito ad amare lei. Abbiamo tanto un senso di déjà vu quando il dottore se ne va. Questo è una sensazione molto strana, una sensazione molto strana che in questa puntata che vede il dottore di fronte a tante sue incarnazioni precedenti, tantissime in realtà, più di sempre, che io credo, almeno per le storie televisive, devo dire che mi ha colpito. Mi ha colpito perché, malgrado io abbia visto tante rigenerazioni del dottore ormai, quelle del Revival tutte quante in realtà, e mi sono andato anche a recuperare eventualmente tramite YouTube rigenerazioni precedenti del dottore, quantomeno gli spezzoni, devo dire che il senso di smarrimento e il dramma legato alla rigenerazione in qualche modo, in qualche misura, soprattutto da Revival in avanti, c'è sempre. Ed è affascinante. È affascinante vedere come l'incarnazione di turno del dottore prova paura, prova dolore per il fatto di dover cambiare. In questa puntata, a mio avviso, non siamo arrivati a quegli apici del non me ne voglio andare del decimo dottore, David Tennant. Decimo dottore è particolarmente rilevante in questa puntata e in realtà ancora un pochino in futuro. E non siamo arrivati sicuramente a quegli apici in cui il dodicesimo dottore, che più volte in realtà forse rispetto agli altri abbiamo avuto modo di vedere quasi lì lì per rigenerarsi, comunque questo dodicesimo dottore non si rassegnava la rigenerazione. I will not change, I will not change again, ricordo ancora. In quella puntata secondo me molto riuscita in cui c'era il confronto fra il primo e l'allora ultimo dottore. È stata quella una puntata che enfatizzava ancora di più questo dramma legato alla rigenerazione, ma comunque indipendentemente dal mio gusto personale credo che sia molto riuscita l'empatizzazione con il personaggio prossimo alla sua fine in questa tredicesima rigenerazione. Tredicesima rigenerazione che arriva alla quattordicesima. Una quattordicesima che in realtà malgrado ci sia stato già l'annuncio del dottore futuro ovvero sia Shutigazua in realtà è stata forse per gli spettatori che non seguono a livello mediatico i social e il dottore e forse anche per quelli che lo seguono un po' una sorpresa. Infatti abbiamo avuto un quattordicesimo dottore perché tale è che in realtà ha qualcosa di già visto e infatti nuovamente David Tennant a interpretare tale figura. Chissà chissà come andrà Tennant è già previsto che sia il quattordicesimo dottore e che lo sia in realtà per poche puntate che saranno trasmesse nel 2023 e questo fa un po' sorcere il naso forse per certi versi perché fa pensare all'ennesimo trucchetto da nerd e da fandom in qualche modo fanservice per tenere contenti i fan nerdofili infatti e un pochettino in realtà secondo me può essere un qualcosa di divertente dal momento che comunque David Tennant nel corso degli anni anche oltre dottore è riuscito a farsi valere in realtà come interprete e lo dico anche pur non avendolo visto in chissà quanti ruoli in realtà però so comunque essere una personalità molto apprezzata soprattutto nel panorama recitativo inglese british in generale anzi sono incuriosito sono incuriosito come per certi versi non ero da tanto con questo dottor who dottor who che con la gestione Cibinal secondo me è peggiorato un pochettino onestamente ma che chissà magari potrebbe ritirarsi su io credo che alla fine comunque la gestione che avevo preferito le dinamiche le storie del nero qualt'altro che mi rimarranno maggiormente nel cuore quando a un certo punto immagino terminerò il mio percorso con dottor who sarà comunque il periodo moffat quello che mi rimarrà maggiormente dentro probabilmente con peter capaldi col dodicesimo dottore però comunque al termine di questa puntata devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso è una puntata semplice in realtà questa qua per certi versi che al di là delle tante macchinazioni complesse pretestuose del maestro in realtà è risolvibile abbastanza semplicemente tutto sommato ma che secondo me funziona come in realtà dovrebbero funzionare forse un po' tutte le storie del dottore sebbene comunque apprezzi il fatto che ci sia al di là di una storia verticale comunque un'orizzontalità della trama vedremo come andrà vedremo come andrà per adesso il mio giudizio su questa puntata che non sarà sicuramente una mia preferita in assoluto è comunque positivo ed è questa l'occasione per dire sono più contento di questo l'addio a Chris Chibnall come showrunner di questa serie e per dire un addio meno contento onestamente ma comunque necessario a Jerry Whittaker che è stato un tredecesimo dottore a mio avviso interessante sotto certi aspetti ma sotto altri in realtà purtroppo non capaci di appassionarmi veramente come hanno fatto altri e come mi auguro faranno se vogliamo anche il quattordicesimo ma come spero dal quindicesimo in avanti quantomeno vedremo come andrà questa puntata le parole del doctor ci fa ricordare comunque di questa serie che comunque con i suoi elementi di base e con ormai la tendenza che a me ritorni al passato sensazioni di déjà vu continue complice ai tanti che a me che ci sono appunto gira che ti rigira comunque è da tanti anni che va avanti da tanti anni che va avanti e per certi versi con questa puntata con i suoi elementi ormai divenuti caratteristici credo che ci ricordi il perché questa serie riesce a essere così in qualche modo caratteristica e così appassionante per i suoi fan perché gira che ti rigira comunque è una storia che va avanti che a volte torna indietro ma avendo un TARDIS per forza di cose questa in qualche modo è una sorte inevitabile una sorte inevitabile a spasso nel tempo e nello spazio e tutto sommato con questo Power of the Doctor devo dire che questo viaggio ancora mi sta piacendo e quindi ve la consiglio vedremo come andrà a spasso nel tempo